Presidente, cosa è successo questa mattina? Come vi siete ritrovati in questa situazione? Siamo stata avvisata dai miei collaboratori intorno alle 8.15 del fatto che vi fossero alcune persone all'interno della scuola, presumibilmente alcuni nostri alunni, che hanno di fatto bloccato gli accessi. Per il momento le motivazioni non sono state ufficializzate, ma sicuramente avranno ricondotto a questa realtà una problematica di respiro un po' più ampio, può riguardare gli incidenti sull'alternanza scuola-lavoro in altri contesti, può riguardare il discorso dell'esame di Stato, ma ad ogni modo l'istituto non è solito vivere questi momenti, anzi c'è sempre un dialogo, un confronto costante con i rappresentanti di istituto, si svolgono regolarmente le assemblee di istituto, è una parte di guadi alunni e ha realizzato tutto questo e adesso sono in corso gli alimenti del caso. Come danni, come siamo messi? Non ho riscontrato particolari danni, tranne carta o porte spalancate o banchi messi in posizione non distanziata come le norme vogliono adesso, almeno per il momento. Grazie. Grazie a lei.